Musica Abbiamo raggiunto il professor Carlo Di Politi, economista della Sapienza di Roma, per parlare di un argomento di stringente attualità domani, sabato 30, sarà il giorno tanto atteso del Family Day e soprattutto in questo momento è in discussione in Parlamento la legge che dovrebbe regolare la vita delle persone omosessuali, soprattutto per quanto riguarda la coppia, l'adozione di figli e tutto ciò che comporta una legislazione in merito. Il professor Di Politi, innanzitutto io vorrei parlare con lei della sua situazione di vita, di come si vive in questo paese, visto che lei fra le altre cose è anche felicemente sposato con una persona del suo stesso sesso. Come sono le condizioni di vita? Buone. Io sono sposato, come è stato appena detto, con un ragazzo americano. Quindi in realtà abbiamo dovuto sposarci in Danimarca, poi tornare in Italia e chiedere la carta di soggiorno sulla base del fatto che nonostante sia italiano in Italia non ci sono diritti, sono anche un cittadino europeo e quindi ho diritto che mio marito viva nel continente europeo. Questo ci dà, volendo, anche una nota di ottimismo, nel senso che per quanto oscurantiste possano essere alcune componenti della società italiana, esiste comunque uno stato di diritto in cui viviamo, esiste la Costituzione, esiste l'Unione Europea, che comunque già oggi ci danno molti diritti. Probabilmente più di quanti molte persone, a partire dalle persone omosessuali, che si rendano conto. Questa legge dovrà decidere anche in merito ad adozione, a procreazione, al fatto che una coppia di persone dello stesso sesso possono avere dei figli e come crescerli. Pensiamo ad esempio, è stata chiamata Step Child Adoption, chi dei due è il genitore del bambino, quello biologico e se nessuno dei due è il genitore biologico, in caso di disgrazia, lei cosa pensa? Dove pensa che siamo arrivati? Una panoramica anche per quanto riguarda gli altri paesi. Dunque, queste sono varie domande. La prima è, no, non è così facile perché ci sono molti diritti in Italia che derivano solo ed esclusivamente dal fatto di essere sposati. Quindi, se le unioni civili garantiranno parità di diritti su molti di questi ambiti, si raggiungerà un'eguaglianza. Altrimenti no, nonostante la legge. Faccio degli esempi, vari tipi di graduatorie per accedere a vari benefici sociali. Oppure, se pensiamo nel caso dei, purtroppo, dei crisi aziendali, quando si decide chi deve andare in casa integrazione. Ci sono tantissimi ambiti in cui normalmente non pensiamo, in cui il concetto di carico di famiglia è molto importante, è giuridicamente importante. Pensiamo alle detrazioni dalle dichiarazioni dei redditi. Quindi, al di là del fatto che molte persone vivono bene anche senza questa legge, questa legge, oltre all'ideologia, si porta dietro tutto un carico di importanti diritti che, purtroppo, solo la legge italiana ci può garantire in questo momento. Detto questo, chiaramente, uno degli argomenti di discussione ha anche a che fare con i bambini, come appena detto. Per quanto ci sono diversi aspetti da considerare da questo punto di vista. Anzitutto, la legge, purtroppo, non prevede l'adozione. Prevede solo la cosiddetta step-child adoption, che quindi è l'adozione di quello che è già il figlio di una delle due persone. E, comunque, si tratta, ovviamente, di un compromesso politico. Da questo punto di vista, tra i vari aggettivi che sono stati usati, probabilmente quello che più mi sembrerebbe calzante per la legge è quello di cavallo di Troia, come metafora. Nel senso che è una legge, probabilmente, destinata ad avere lo stesso destino della legge 40 sulla progazione assistita. È una legge che, chiaramente, contiene diversi passaggi che sono ancora discriminatori, ma, poiché la Corte Costituzionale ha già chiarito da anni ormai che non è legittima, costituzionalmente, la discriminazione delle coppie omosessuali, tutti i pezzetti, i rimasugli di ideologia, che purtroppo rimarranno anche dopo che la legge passasse, verranno smontati piano piano dalle corti. Che è sempre più difficile ottenere delle adozioni in termini ragionevoli e che in costi ragionevoli. Questo significa che sempre più persone eterosessuali, sempre più coppie eterosessuali, si rivolgono anche a metodi di inseminazione artificiale all'estero per poter ottenere dei figli. Ricordiamo anche che il fenomeno della riduzione della fertilità è purtroppo in ascesa. Questo perché si sposta all'età in cui le donne fanno dei figli, si sposta all'età in cui ci si sposa. E quindi, anzitutto, questo dibattito in questo momento è un falso problema. Perché le coppie di persone dello stesso sesso sono pochissime in percentuale della popolazione e il grande parte di questa domanda di bambini viene da altrove. Poi, riguardo al fenomeno in sé, che serve una regolazione, non c'è dubbio. Io direi che almeno dagli anni 70, in cui si è stabilito il principio che non sta a noi dire alla singola donna ciò che deve fare o non fare nel suo corpo. Quello che è importante è evitare le ipocrisie. Bisogna stare molto attenti a che non ci siano fenomeni di sfruttamento e quindi qualsiasi status giuridico si decide alla fine di... qualsiasi regolazione si decide di avere su questo argomento bisogna in ogni modo evitare che si abbia una commercializzazione, una mercificazione del corpo della donna e soprattutto fenomeni di sfruttamento. Ecco, Di Polite, lei anche a livello accademico scientifico si è occupato di analizzare vari screening economico-culturali per quanto riguarda l'area europea e anche mondiale. Del resto, procreare per una coppia omosessuale, per esempio, è abbastanza costoso. Persone di alto livello sociale nella storia ed anche attualmente non hanno mai avuto problemi con la loro omosessualità quando invece le persone che più avrebbero bisogno di diritti, quelle cioè più povere, ne hanno molti di problemi. Questa serie di domande per dire cosa, insomma? In Italia le famiglie omosessuali sono un fatto, da anni ci sono dei bambini, figli di coppie omosessuali che sono già adolescenti e finora si è fatto finta che non esistano, ma è un problema di classe e soprattutto perché il movimento LGBT è così diviso? Cioè, tanti problemi diversi, ognuno dalla sua parte, sostanzialmente nel resto del mondo non è andata così. Di nuovo sono molte domande. Sui figli, anzitutto c'è un malinteso frequentissimo, l'idea che le persone omosessuali siano sterili. In realtà è un'assoluta stupidaggine, ovviamente. Ci sono tantissime donne o uomini che possono avere dei figli in relazione eterosessuali e poi invece decidere di passare il resto della loro vita con una persona dello stesso sesso. Oppure possono decidere di avere figli anche in maniera naturale nonostante vivano con persone dello stesso sesso. Quindi non dobbiamo necessariamente pensare al cosiddetto utero in affitto quando pensiamo al problema dei bambini, né necessariamente il problema dei bambini se qualcuno avesse ancora la mentalità che servono il padre e la madre sarebbe legato solo alle coppie delle persone dello stesso sesso perché c'è il problema, ad esempio, dei bambini che perdono uno dei due genitori. Oppure l'idea che solo il genitore geologico è un genitore legittimo e allora tutti i figli adottivi, come la mettiamo, oppure con le nuove famiglie quando una madre single trova un nuovo compagno magari abbiamo dei bambini che vivono anche dieci anni con questo uomo con cui stabiliscono un rapporto fantastico vogliamo sostenere che questo non è il padre. Insomma, la situazione è ben più complessa e spesso accade che una piccolissima minoranza della popolazione la popolazione LGBT viene strumentalizzata per far passare un'ideologia veramente retrograda e che spesso in realtà nasconde più che altro il desiderio da parte di alcune piccole nicchie politiche di coltivare un certo elettorato. A parte questo, certamente anche la comunità LGBT è molto divisa. Quello che abbiamo visto nelle nostre ricerche io ho fatto in realtà ormai vari lavori anche con colleghi ad esempio il dottor Botti dell'Università di Perugia abbiamo visto che c'è una forte ragione per cui esiste lo stereotipo che le persone gay sarebbero tutte ricche la ragione è il fatto che le persone gay sono le persone ricche, scusate sono quelle che veramente possono dichiarare vivere tranquillamente la propria omosessualità senza temere particolari ripercussioni viceversa, le persone con un reddito sotto la media le persone con un livello di istruzione più bassa o dei lavori precari molto spesso non possono permettersi di dichiarare la propria sessualità. Questo dà origine al fatto che per strada, in televisione, normalmente sappiamo solo di persone gay che hanno un buon titolo di studio, che hanno un buon reddito semplicemente perché gli altri non possono dirlo ma la differenza c'è e esistono persone gay ricche come povere così come ci sono persone etero ricche come povere. Forse non possono dirlo anche perché taluni esponenti politici si permettono di usare espressioni barbare tipo quella di questa settimana in cui si è detto che sposare un uomo o sposare un'altra donna sarebbe un assurdo giuridico come pretendere di sposare un cane. al di là della grettezza di questo ragionamento il governo Renzi in realtà gioca molto della sua credibilità su questo passaggio parlamentare e c'è già chi ha detto che in caso la legge passasse dovrebbe poi comunque farsi un referendum che ne decida l'abrogazione o meno. Lei personalmente cosa pensa che succederà? Pensa che questa legge passerà alla fine, magari anche zoppa e cosa pensa del fatto che si chieda un referendum abrogativo per quanto riguarda un diritto individuale? Dunque, come economista non posso non ribadire che la famiglia è una forma sociale è un'istituzione che cambia tantissimo nel tempo molto spesso anche per ragioni economiche l'avvento del capitalismo ha portato prima le donne a lavorare in una certa fase storica insieme ai bambini anche in lavori molto duri e molto faticosi in un'altra fase storica le ha portate a non lavorare e in entrambi i casi si è sostenuto che quello era il ruolo naturale della donna le famiglie italiane hanno vissuto per secoli in aggregati molto ampi con familiari di primo, secondo o terzo grado che vivevano insieme in alcuni momenti ora consideriamo naturale solo la cosiddetta famiglia nucleare quindi tendiamo a universalizzare, a considerare naturale quelli che sono semplicemente dei fenomeni transitori transitorio è sicuramente anche appunto l'idea che oggi il matrimonio possa essere solo tra un uomo e una donna passerà e questa è anche la ragione per cui sono relativamente ottimista in realtà sulla legge la legge come ho detto nonostante sia stata criticata da molti perché non contiene una piena uguaglianza per le persone LGBT è un ottimo primo passo e permetterà per tutti gli aspetti in cui ancora dovesse esistere discriminazione di continuare il lavoro tramite delle cause di fronte a tantissime corti passerà perché? Perché il governo è un governo di coalizione il PD ha già dovuto accettare molte misure che a giudicare dai programmi elettorali senza voler giudicare diciamo non sarebbero considerate pienamente misure di sinistra possiamo pensare all'elevazione della soglia per il contante e il suo rapporto possibile di incentivazione dell'elevazione fiscale e quindi adesso c'è bisogno in vista delle prossime elezioni amministrative di qualcosa di sinistra per dirla con uno slogan famoso questa legge quindi serve al governo ed è il motivo per cui penso che passerà